Avevano messo in piedi un'organizzazione con base operativa a Palermo, ma con ramificazioni internazionali per carpire sul web migliaia di codici di carte di credito di utenti ignari, carte che venivano poi utilizzate per l'acquisto online a prezzi ridotti di biglietti ferroviari, aeree e marittime e di altri servizi. Le fiamme gialle di Palermo alle prime ore della mattinata hanno eseguito nell'ambito dell'operazione Easy Travel 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere e 2 ai domiciliari, colpendo i vertici dell'organizzazione che coinvolge cittadini romeni, unitaliani, africani e asiatici. Abili hacker informatici erano riusciti a carpire i dati delle carte di credito di migliaia di utenti residenti principalmente negli Stati Uniti, in Brasile, in Giappone e nei principali Stati europei. Danneggiate per oltre 10 milioni di euro numerose campagne di navigazione e di trasporto aereo e ferroviario, oltre ad aziende fornitrici di servizi pubblici e di commercio via internet. I reati contestati sono associazione per delinquere e ricettazione, frode informatica in debito utilizzo di carte di pagamento, aggravati dalla trasnazionalità. Le ordinanze di custodia cautelare sono state disposte dal GIP Maria Pino, su richiesa del PM Daniele Paci. L'indagine è stata coordinata dal procuratore aggiunto Leonardo Gueci. Arrestati 4 romeni, 2 bangalesi e 1 palermitano, domiciliati fra il capoluogo siciliano e Cagliari. Sono esattamente Badisha Miamed, Sebastian Creto, Ulla Noamed Hashas, Andrei Agape, Gioacchino Orlando, Carmen Papeio e Catalan Cristian. Il meccanismo della truffa era abbastanza semplice. La banda incassava da viaggiatori alla ricerca di prezzi ridotti, una cifra che, secondo dei casi, variava dal 50% al 70% del prezzo del biglietto fornito e, di contro, lasciava debitare il 100% del costo dell'operazione all'inconsapevole titolare della carta di credito, i cui codici erano stati illecitamenti acquisiti. Le intercettazioni telefoniche e quelle telematiche hanno successivamente permesso alle fiamme gialle di smantellare l'organizzazione criminale, che aveva come base un negozio di prodotti alimentari di origine romena e due phone center ne presi della stazione centrale di Palermo. I codici così ottenuti venivano spremuti fino ad esaurimento, cioè finché non si perveniva alla formale denuncia dei fatti da parte del titolare derubato. Nel corso di un servizio straordinario per il controllo del territorio, i carabinieri di Alcamo hanno effettuato diverse verifiche scoraggiando chi si mette alla guida dopo aver alzato il gomito o aver assunto sostanze stupefacenti. Ad Alcamo, infatti, sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 3.000 euro circa nei confronti del gestore del locale Ritrovo Drinks perché è responsabile della violazione di alcune norme nel settore igienico-sanitario e per la mancanza all'interno del locale dell'apposito apparecchio per la misurazione del tasso alcolemico, divenuto obbligatorio per legge per quei locali che somministrano bevande alcoliche. Durante i controlli alla circolazione stradale, inoltre, è stato denunciato in stato di libertà R.E. Alcamese, 38enne impiegato, per il reato di rifiuto di sottoporsi al test per l'accertamento del tasso alcolemico in quanto, sorpresa alla guida della propria autovettura, in evidente stato di ebrezza alcolica, provvedendo altresì al ritiro della patente di guide al sequestro dell'autoveicolo. Veniva altresì sanzionata amministrativamente per guida e stato di ebrezza una donna di balestrate, trentenne. Numerosi sono stati anche i controlli per la repressione del fenomeno del consumo delle droghe. Infatti, i carabinieri della compagnia di Alcamo hanno sequestrato alcune dosi di sostanza stupefacente per uso personale tra marijuana e cocaina e contestualmente hanno provveduto a segnalare al locale ufficio territoriale i soggetti fermati, quali assuntori, di sostanza stupefacente, che dovranno poi essere sottoposti ad un opposito programma di riabilitazione per chi fa uso di droga. Infine, i carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto un pluripregiudicato alcamese Paolo Piazza, 39enne, a seguito dei numerosi stati accertati a carico di quest'ultimo, commessi tra i comuni di Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi-Segesta, dal furto alla rapina, dalle minacce alle lesioni personali. L'autorità giudiziaria di Trapani lo ha condannato a tre anni e dieci mesi di reclusione. L'arrestato è poi stato condotto presso la casa circondaliare San Giuliano di Trapani, dove permarrà per scontare la pena. Vandali in azione a Partinico nel quartiere San Paolino, all'estrema periferia del paese. I gnoti hanno abbattuto il palo stradale con il nome della via dedicata alla memoria di Vitolo Grasso, un giovane morto in mare a 25 anni, nel tentativo di salvare una giovane donna che stava annegando. A segnalare l'episodio di vandalismo sono stati alcuni residenti del quartiere. Come vedete è la terza volta che giovane che si tradica nei pali, qua c'era un palo dove indicava la via Vitolo Grasso, il famoso ragazzo che è deceduto per fare un salvamento a mare. E come si vede, i giovani l'hanno tradicato e buttato lì dietro. I vandalici che ci sono durante anche l'intera giornata? Durante l'intera giornata, tutti i giorni si può dire. In questo momento non c'è nessuno, ma se vedete il muro di quella... sono cose di tutti i giorni. Ho segnalato per vedere questo vandalismo di questi ragazzi che non hanno capito per dire la vita niente. O i familiari non riescono a insegnare ai figli come si debbano comportare. Perché questo ragazzo è morto salvando una ragazza. Allora il papà dieci anni fa è venuto da me a parlarmi per vedere se c'era possibilità di mettere una via qua vicino, perché lui abitava qua vicino, di mettere una via in testa da suo figlio. Io gli ho detto stai tranquillo che questa cosa si farà. In quanto siccome poi è nata questa strada nuova, gli ho detto che questa strada sarà intitolata a tuo figlio. E così è nata la strada di Vitolo Grasso, un ragazzo che io ho conosciuto da ragazzo, perché è da molto tempo io che spesso vengo da queste parti in quanto ho una casa. Voi dovete vedere un'altra cosa. A parte questa cosa, guardate qua c'era una recensione, una recensione che si è stata fatta 4-5 anni fa, tutta distrutta. Se portano ferro, non esiste più niente. Vuol dire che c'è in questo quartiere, in questa zona, un tipo di rifugio di qualche banda musicale, diciamo, di vandalismo, che non capisco quello che questi ragazzi in testa hanno. Avevano fatto irruzione in tre. Picchiato un dipendente è portato via poco meno di 300 euro da un laboratorio di analisi cliniche in via Carducci a Palermo. Adesso la polizia ha arrestato uno dei tre presunti rapinatori, SM, di 34 anni. Secondo l'accusa, infatti, lui è uno dei tre malviventi che il 2 dicembre dello scorso anno fecero irruzione all'interno del laboratorio di analisi cliniche Logorotondo. Gli agenti del commissariato Politeama gli hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal CIP Agostino Cristina su richiesta del PM Vania Contrafatto. Secondo l'accusa, è uno dei tre malfattori che avevano attaccato il laboratorio, picchiato un dipendente e prelevato 285 euro dalla cassaforte. È stato identificato grazie al frammento di un'impronta digitale rilevata sul posto e all'immagine del sistema di videosormeglianza. Nella sua abitazione sono stati trovati gli abiti indossati durante la rapina. Quello che avremmo noi è un posto sicuro dove poter svolgere le lezioni perché è il nostro diritto e il diritto allo studio è un posto sicuro. Organizzeremo cortei, organizzeremo manifestazioni, coinvolgeremo tutti coloro che verranno di nostro aiuto. Non ci fermeremo fino a quando non avremo certezze. È un posto sicuro dove poter continuare le nostre attività didattiche. Nessun passo indietro. Gli studenti dell'istituto alberghiero Danilo Dolci di Balestrate rivendicano il loro diritto allo studio e a poterlo esercitare in una struttura sicura. Per questo motivo continueranno la loro lotta. Nemmeno l'incontro di ieri con i vertici della provincia, rassicurato dirigente scolastico, docenti, alunni e genitori. Stiamo procedendo, ha detto durante l'incontro, il presidente della provincia, Giovanni Avanti, ad una verifica strutturale propedeutica ad interventi provvisionali per consentire quei lavori necessari a proteggere le parti del complesso utilizzate come sede della scuola. Nei prossimi giorni sarà avviata una ricognizione, ha proseguito Giovanni Avanti, anche in altri comuni del comprensorio per verificare la presenza di strutture di proprietà di enti pubblici da utilizzare come sede scolastica. Garanzie però che non hanno convinto nessuno. Assolutamente insoddisfatti perché si continua ancora a perdere tempo. La verifica delle strutture, la possibilità di fare degli aggiustamenti, sono soldi buttati al vento. Non solo per il fatto in se stesso ma perché anche noi abbiamo i nostri tecnici, anche noi abbiamo il responsabile della sicurezza e ci hanno detto cose completamente diverse. Poi non vedo come una relazione del genio civile in cui si dice che ci sono pericoli di crolli perché le strutture portanti non sono sicuramente idonee a poter continuare a restare al degrado, non ci fanno assolutamente stare tranquilli. Noi abbiamo già segnalato alcuni locali che sono disponibili da subito e potrebbero essere nel giro di poco tempo fruibili dai ragazzi, eliminare doppi turni di servizi e tutto quanto. Però il Presidente della provincia ha detto che sarebbe una cosa non legale e quindi dato che in provincia fanno tutto secondo la legalità questo noi lo accettiamo. Però gli diciamo al Presidente Avanti che faccia presto perché noi abbiamo una serie di manifestazioni che porteremo ovunque perché non ci arrendiamo davanti a niente. Le famiglie chiedono ogni giorno nulla osta. Qui c'è il tentativo di affossare per sempre una scuola nell'oblio, una scuola che potrebbe essere una grande occasione di sviluppo di tutto il bacino del golfo di Castellammare. Noi chiediamo questo SOS al Presidente della provincia perché la provincia ha proprio questa funzione di aggiustare le strade e di trovare le scuole. Se non ha un soldo per le scuole e preferisce chiuderle, beh è che ci sta a fare la provincia. Noi non ci sentiamo più nella condizione di mandare i ragazzi in quel plesso, bensì di mandarle, e approfitto diciamo così di questo momento per dire agli altri genitori di non correre a scuola per cercare diciamo così di avere nulla osta, bensì quello di assieme di trovare una soluzione così come abbiamo fatto stamattina nell'incontro col Presidente della provincia per avere una risposta per i nostri figli in maniera tale che possano avere come dire nelle zone vicini ore una scuola e quindi un plesso dove poter a sua volta diciamo continuare il loro studio. Su quel terreno con destinazione agricola incontrata a Garofalo, territorio di Partinico, ricadente in una zona sottoposta a vincolo sismico e passeggistico, era stato realizzato un manufatto in cemento armato in assenza delle prescritte autorizzazioni sia del comune che del genio civile. Un abuso edilizio gravato anche dalla mancata autorizzazione preventiva della sovrintendenza ai beni culturali, considerato in particolare che l'immobile di una superficie complessiva di circa 75 metri quadrati, era stato edificato in vicinanza di un torrente, ossia nella fascia di rispetto fluviale. Per queste violazioni due fratelli partinicesi, Maurizio e Alessandro Tornetta, rispettivamente di 33 e 28 anni, con proprietari del terreno in oggetto, sono finiti sotto processo. I due congiunti, secondo l'accusa, avevano realizzato in concorso tra loro le opere edilizie in questioni, senza appunto essere in possesso del prescritto permesso di costruire, e in una zona sottoposta per di più a vincolo sismico e paesaggistico. A conclusione dell'istruzione dibattimentale, dopo un processo sviluppato sinotta udienza, il giudice monocratico del Tribunale di Palermo, sezione di staccata di Partinico, Salvatore Flaccovio, ha condannato il fratello maggiore, Maurizio, e ha assolto il minore Alessandro. Il primo è stato condannato a 5 mesi di arresto e 24.000 euro di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, nonché alla demolizione delle opere abusive in contestazione. Resta ancora non potabile l'acqua della rete comunale per un popoloso quartiere di Carini. Un mese fa, il sindaco Giuseppe Agrusa aveva emesso un'ordinanza per vietarne l'uso a scopo alimentare, dopo che analisi di laboratori avevano evidenziato un'alterazione delle caratteristiche organolettiche. Il primo cittadino adesso lamenta di non avere ricevuto più notizie alle richieste sulle condizioni di potabilità. Così ha scritto al prefetto e diffidato formalmente la società Acque e Potabili Siciliane, che gestisce il servizio di distribuzione idrica. Dal 6 novembre scorso in alcune zone di Carini, infatti, è emergenza idrica. Alcuni residenti avevano segnalato che dai rubinetti usciva acqua di colore scuro e maleodorante. Le analisi effettuate qualche giorno dopo dall'ASP6 di Palermo avevano confermato la presenza di sostanze inquinanti, imponendo al sindaco di emanare il provvedimento di divieto, con la conseguente richiesta alla società ASP di risolvere il problema entro due giorni. Ad oggi, però, molti cittadini carinesi l'acqua da bere per cucinare la debbono comprare. Nonostante numerosi contatti verbali con i rappresentanti della società ASP, sia da parte dello scrivente sia del responsabile della ripartizione, dice il sindaco, nessuna comunicazione a tutt'oggi risulta pervenuta lenta in ordine alla stabilizzazione dei valori dei parametri fissati dalla norma. Tutto ciò continua a generare disagio e malcontento tra la popolazione. Giornalmente, infatti, ricevo numerosi cittadini che lamentano il mancato il ripristino delle condizioni di potabilità dell'acqua. I consiglieri comunali del Partito Democratico, Renzo Di Trapani, Aldo Loiacono, intervengono sulla mancata accensione degli impianti di riscaldamento nelle scuole Capitano Polizzi, Privitera e La Fata. Dopo aver verificato, si legge, che nelle tre scuole gli impianti di riscaldamento sono spenti, con enorme disagio per i piccoli alunni e per tutto il personale docente non docente, è arrivata la sorpresa più grande ed inaspettata. Gli impianti, si legge, di riscaldamento sono spenti perché la richiesta di fornitura del gas metano è stata fatta soltanto da qualche giorno. Sembra incredibile, si legge ancora, ma l'amministrazione Lobbiundo, con tutta la sua splendida squadra di assessori, è stata capace di lasciare gli alunni al freddo e al gelo per conclamata incapacità politica amministrativa. È incomprensibile, si legge ancora, il fatto che, ultimati la scorsa estate i lavori di conversione degli impianti da gasolio a gas metano, non si sia provveduto a stipulare il contratto per la fornitura del gas. Invitiamo, si legge, il sindaco Lobbiundo a scusarsi pubblicamente con la cittadinanza ed in particolare con tutti i genitori ed i docenti delle scuole per il disagio e la sofferenza in recate e contemporaneamente a revocare, si legge ancora, l'incarico agli assessori bonni della pubblica istruzione e pantaleo della manutenzione. Invitiamo il sindaco, si legge altresì nella prossima seduta di consiglio comunale, a riferire urgentemente sulle motivazioni che hanno portato alla mancata accensione degli impianti di riscaldamento. Il via libera è arrivata, la giunta Crocetta ha ufficialmente approvato la cassa integrazione in deroga per GESIP. A confermarlo stamane è Stefano Polizzotto, a capo della segreteria tecnica del governatore. La giunta ha autorizzato gli ammortizzatori sociali per GESIP, ha detto Polizzotto e ha dato mandato al dirigente di procedere con gli adempimenti necessari. Un atto di giunta che, secondo alcune voci non confermate, potrebbe addirittura evitare il passaggio all'ufficio provinciale del lavoro, ma che è stato comunque reso necessario dalla mancata firma del tavolo con le parti sociali. A creare qualche ritardo inoltre avrebbe contribuito anche la lentezza con cui il ministro Elsa Fornero ha materialmente firmato il decreto. Adesso, se non ci saranno intoppi, l'ultima parola spetterà l'Inps, che dovrà compiere gli ultimi passaggi tecnici necessari perché i 1.800 lavoratori ottengono 4 mesi di cassa integrazione, dal 1 settembre al 31 dicembre, che consistono in circa 800 euro mensili a cui andranno aggiunto gli assegni familiari. Il tutto mentre va avanti la liquidazione giudiziale dell'azienda, il licenziamento collettivo e la creazione della società consortile. Festa in corso è l'iniziativa che si terrà a Trappeto domani, giorno di Santa Lucia e dopo domani. La manifestazione è organizzata dall'Associazione Trappeto E con il patrocino del Comune. Stand con mostre di artigianato locale, degustazioni di prodotti tipici all'insegna della serenità in vista del Santo Natale. Giovedì 13 e venerdì 14 a Trappeto stiamo organizzando dei stand natalizi, stiamo convolgendo tutte le persone del paese a manifestarsi e praticamente vogliamo creare un clima natalizio e vogliamo invitare tutte le persone che vogliono venire a trovarci e praticamente ci saranno giochi per bambini, ci saranno molte sorprese e invitiamo le persone a venirci a trovare per quei giorni per far sì che il Natale sia più bello. Praticamente stiamo facendo di tutto per tentare di portare un po' di allegria a Trappeto tra la quale c'è anche questo mercatino che viene chiamato Festa in Corso e diciamo che lo scopo è di fare delle bancarelle offerte gratuitamente ai nostri cittadini dove esporranno praticamente artigianato, cibi locali, chi venderà addirittura delle verdure raccolte nel proprio campo diciamo e poi ci sarà anche Babbo Natale che è sempre un trappetese che non svegliamo chi è, che regalerà delle caramelle ai bambini di Trappeto, ci saranno ci sarà lo sputafuoco diciamo, farà il suo spettacolo per la via 24 giugno, niente speriamo che sarete numerosi a questa festa e buon divertimento dai! Continua la preparazione del Palermo in vista della difficile trasferta in programma sabato prossimo 15 dicembre al Friuli contro l'Udinese. La doppia sconfitta contro l'Inter e la Juventus ha lasciato il segno in casa rosa nero. Il Palermo infatti è tornato in piena zona retrocessione e con un calendario alle porte sempre ardu a cominciare dalla trasferta di sabato come dicevamo contro l'Udinese dell'ex Guidolin. Fuori dalle mura amiche il Palermo non riesce proprio ad ottenere risultati come dimostrano i due soli punti conquistati. In trasferta finora abbiamo fatto delle buone gare, abbiamo raccolto poco, ci manca probabilmente un po' di velocità, un po' di profondità che è quella che in trasferta magari ti aiuta a fare qualche gol in più e questo può essere una delle cause anche se la squadra poi si esprime bene sotto tanti aspetti. È la stessa cosa che ci capita in casa quando dobbiamo magari giocare delle partite un po' più difensive come è stata domenica, quando invece riusciamo ad essere con molti uomini nella metà campo avversaria riusciamo magari, abbiamo caratteristiche e ci consente di fare qualche gol in più. In trasferta questo non è sempre facile. Giampiero Gasperini comunque è fiducioso per le chance salvezza del suo Palermo. Secondo me ne ha tante, già per così com'è, poi speriamo che dopo gennaio ne abbia ancora di più, già così è la possibilità di salvarsi soffrendo, facendo il campionato di difficoltà di una squadra che si deve salvare insieme a quelle che ci sono e speriamo che dopo gennaio abbia ancora più possibilità. Adesso le attenzioni sono puntate sul calcio-mercato, ma cosa serve a questa squadra per ottenere una buona salvezza? Non buono anche che lavora su questo e poi adesso non è neanche il momento. Per quanto riguarda Donati bisogna affrontare il discorso, affrontare il discorso con lui. Si è convinto di continuare a giocare in quel ruolo, credo che ha fatto delle ottime partite e altre meno. Se invece la proposta è a centro campo è un po' più difficile perché quando sono arrivato lui giocava a centro campo e era in grandissima difficoltà e quindi bisognerà poi valutare questo.